Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense ad Argenta, il centro vaccinale di Torre di Primaro nella notte imbrattato da scritte Novax. Quanta imbecillità, non mi viene da pensare altro, guardando queste immagini ha scritto il sindaco Andrea Baldini in un post su Facebook, stanotte qualcuno ha pensato di imbrattare il centro vaccinale con queste scritte assurde, chi di notte vandalizza un luogo pubblico non è libero come pensa, continua il sindaco, chi fa questo non è un valoroso difensore dei diritti, è solo un teppista, ha continuato il sindaco Andrea Baldini che ha aggiunto che la squadra di Soelia, la multi utility operativa nell'argentano è già al lavoro per cancellare questo scempio e ripulire il centro. Intanto il bollettino della pandemia registra dati in calo piuttosto stabili sia per quanto riguarda i nuovi contagi che i ricoveri in ospedale sia a Ferrara che in Emilia Romagna dove l'RT regionale cala dallo 0,85 rispetto a quello di 1,11 di una settimana fa. A Ferrara comunque la pressione ospedaliera resta stabile, dicevamo, sempre più guariti rispetto ai nuovi contagi ma purtroppo si contano ancora tre nuovi decessi. Pressione ospedaliera stabile, una leggera risalita dei nuovi positivi e purtroppo ancora tre decessi e quanto rilevato dal bollettino sulla pandemia nella provincia estense relativo alla giornata di giovedì 10 febbraio. All'ospedale Sant'Anna di Ferrara Cona sono 111 le persone ricoverate per covid positivo, 75 all'ospedale del Delta di Lago Santo, 45 al Santissima Annunziata di 100. In rianimazione a Sant'Anna sono 11 le persone ricoverate. Purtroppo si registrano altri tre decessi nel territorio estense. Si tratta di due donne entrambe di Fiscaglia rispettivamente di 86-88 anni e di un uomo di 90 anni residente a Comacchio. Continua il trend che vede in 24 ore ancora più guariti sono 1140 rispetto ai nuovi contagi che sono 497. In Emilia-Romagna continua il trend di calo sia di casi che ricoveri covid-19. Il calo della curva epidemica è testimoniato anche dai dati settimanali validati dal Ministero della Salute che vedono l'incidenza settimanale dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti scendere a 1116 dai 1887 di sette giorni fa con un RT regionale a 0.85 rispetto all'1.11 della scorsa settimana. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 132, quelli ricoverati negli altri reparti covid-19 sono 2.147. Nel bollettino odierno regionale si registrano 42 decessi ma anche 15.412 guariti, tre volte il numero dei contagi che sono 5.371 nelle ultime 24 ore. Continua la campagna vaccinale intanto in tutto il territorio ferrarese. Sono state 1.260 le dosi somministrate nella giornata di giovedì 10 febbraio portando a 296.474 le prime dosi totali, a 283.215 le seconde dosi e a 202.923 le terze dosi booster. La cronaca. Gli agenti della polizia di Ferrara hanno arrestato in flagranza di reato in via Bologna uno spacciatore mentre vendeva droga ad un cliente. L'intervento della polizia è avvenuto nello specifico dopo alcune segnalazioni da parte di alcuni cittadini che notavano uno strano via vai di persone. Gli agenti sono intervenuti mentre lo spacciatore consegnava un involucro risultato poi contenere della cracca nella mano del cliente che gli aveva ceduto una banconota da 20 euro. Entrambi sono stati sottoposti ad accertamento. Una successiva perquisizione domiciliare dello spacciatore ha permesso di trovare all'interno di un garage alcune biciclette e un monopattino di possibile provenienza illecita. Al termine delle formalità di rito la sostanza stupefacente e i veicoli sono stati sequestrati. L'uomo è stato arrestato appunto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è denunciato per il reato di ricettazione mentre l'acquirente e il cliente è stato segnalato alla prefettura di Ferrara come assuntore di droga. Ferrara ha ricordato presso la caserma Bevilacqua la figura di Giovanni Palatucci, questore reggente di fiume ai tempi della seconda guerra mondiale che sacrificò la propria vita per aver salvato diversi ebrei. Sentiamo. Un ulivo in memoria di Giovanni Palatucci che fu questore reggente di fiume e morì in un campo di concentramento dopo aver salvato numerosi ebrei. È quello che è stato celebrato in una cerimonia tenutasi presso la caserma Bevilacqua. Diverse le autorità presenti tra cui il questore Salvatore Calabrese. Io sono particolarmente legato a Giovanni Palatucci non solo perché è nato ed ha vissuto la sua giovinezza a 17 chilometri dal mio paese di origine dove è la mia famiglia, non solo perché conosco ovviamente i suoi nipoti, i suoi parenti, che sono stato testimone diretto di parte della ricostruzione, ma perché mi lega a lui una profonda riconoscenza per ciò che ha fatto, per come ha vissuto il suo ruolo di funzionario, consapevole dei rischi fino alla fine a cui lo esponevano le sue importanti azioni di salvataggio di migliaia di persone. Alcuni studenti hanno ricordato la storia di Giovanni Palatucci nel corso della mattinata dove hanno preso parola tra gli altri il rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara Luciano Caro e la presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea Anna Maria Quarzi. Siamo nel momento storico in cui si ridimensiona tutto, si svalutano delle cose che avevano valore, si vuole comparire anche ignorando le cose belle e giuste che sono state fatte. Quindi ritengo che sia doveroso per noi celebrare la figura di queste persone che viceversa si sono spese anche con dei rischi molto forti per andare al di là del proprio dovere burocratico e mettendo a qualche volta anche a rischio la propria famiglia, non solo se stessi, hanno proceduto sulla strada che ritenevano giusta al di fuori di tutte le altre considerazioni. È una figura come ce ne sono state altre che hanno fatto della loro vita veramente l'idea dell'aiuto, dell'amore verso il prossimo. Ma perché dico questo? Perché io quando parlo di Palatucci c'è una frase, una frase che dice il dovere verso la legge, ma il dovere verso l'uomo. Ecco Palatucci incarna questo concetto, senza dubbio uomo di legge, ma in quel momento quella legge tra virgolette era giusta verso l'uomo, Palatucci è considerato di no e ha salvato tantissime vite. Ora la politica, il Partito Democratico che interviene dopo l'assoluzione del vice sindaco di Ferrara Nicola Lodi, le dichiarazioni del capogruppo del PD in Consiglio Comunale ai nostri microfoni, il compito dell'opposizione è la segnalazione di dubbi appunto sulla legittimità. Dopo l'assoluzione del vice sindaco Nicola Lodi, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio ma scagionato dal GUP Vartan Giacomelli in quanto il fatto non sussiste, commenta la vicenda Francesco Colaiacovo, capogruppo PD in Consiglio Comunale. Il processo era nato da un esposto del Partito Democratico ferrarese. Beh intanto rispetto al signor Nicola Lodi, da parte mia e personale mi fa piacere che sia stato assolto, questo riguarda la persona. Riguardo al politico, al vice sindaco, io voglio ricordargli che l'opposizione ha un compito, una responsabilità nei confronti della cittadinanza, quello di segnalare situazioni dove ci possono essere dubbi sulla legittimità e sulla legalità di determinati atti. oltre che ha una funzione di stimolo rispetto ai progetti per quanto riguarda la vita cittadina. In quella circostanza specifica il PD aveva semplicemente fatto presente di un fatto che riguardava un'indagine in corso e sul quale la Procura della Repubblica ha approfondito ed è stato un giudice, il giudice delle indagini preliminari che ha rinviato a giudizio e c'è stata una Procura della Repubblica che ha formulato una richiesta di condanna. Il PD è presente su tutto quanto riguarda la vita della città e quindi soprattutto non solo chiaramente nel sollevare problemi laddove ci dovessero essere problemi di legalità, ma soprattutto nel formulare proposte. Noi siamo presenti costantemente e quotidianamente in Consiglio Comunale. Noi abbiamo manifestato dubbi ad esempio sulla bontà e sulla capacità delle proposte sul PNRR della maggioranza e della Giunta rispetto alla capacità di poter sentire un rilancio della città, ma allo stesso tempo noi facciamo sempre il tipo per Ferrara, seppur la possibilità che i fondi, le risorse che arrivano possano essere sfruttate dalla nostra comunità, dalla nostra città. Cambiamo ora argomento, andiamo in Regione dove prosegue l'impegno per le imprese del settore agricolo, altri 120 milioni di euro per investimenti a bando. Entro proprio questi giorni, la metà del mese, risorse fondamentali per crescere e ripartire, ha spiegato l'assessore Mammi. Che sentiamo? Sì, un importante pagato di risorse, le nostre imprese agricole se lo meritano perché grazie al loro lavoro quotidiano tutti noi abbiamo ogni giorno sulle nostre tavole cibo sicuro di qualità per tutti, lo abbiamo ben compreso soprattutto durante i periodi di lockdown e di pandemia. Quindi oggi abbiamo presentato due azioni concrete molto rilevanti. La prima riguarda gli indennizi per le calamità che le imprese hanno subito nel corso del 2020 e 2021. Metteremo a disposizione oltre 100 milioni di euro, 105 milioni di euro, 11 milioni l'ultima tranche dei pagamenti relativi ai danni causati dalla cimicia asiatica. Oltre 40 milioni di euro per le gelate e altre avversità legate che hanno subito le imprese nel 2020. Oltre 50 milioni di euro per le gelate tardive del 2021. Il secondo intervento riguarda poi gli investimenti, quindi lo sviluppo della nostra agricoltura. Siamo stati la prima regione italiana ad avere l'ok al nostro piano di sviluppo rurale da parte della Commissione europea. Entro l'estate metteremo a bando oltre 400 milioni di euro destinati alle nostre imprese e oggi abbiamo annunciato che due dei bandi più attesi delle nostre imprese, quelli relativi agli investimenti, verranno pubblicati alla metà del mese di febbraio e saranno 120 milioni di euro per interventi di ammodernamento, costruzione degli immobili, acquisto delle macchine, delle attrezzature, per sistemi di sicurezza per proteggere le produzioni agricole e agroalimentari e risorse rivolte alle imprese agroalimentari e alle imprese agricole per aiutarle a essere sempre più efficienti, sempre più competitive e capace di generare reddito che è la condizione indispensabile per andare avanti, per svilupparsi, per crescere e valorizzare il proprio lavoro. Ora ritorniamo a Ferrara dove in piazzetta Sant'Anna con una cerimonia di presentazione è stata scoperta una nuova lapide che ricorda la presenza della cella del Tasso. Una lapide che ricorda a cittadini e visitatori la presenza della cella ricostruita a testimonianza di quella in cui venne rinchiuso in quest'area della città il grande poeta Torquato Tasso. È quella che è stata scoperta venerdì 11 febbraio con una breve cerimonia in piazzetta Sant'Anna a Ferrara. Numerosi partecipanti alla cerimonia tra cui il vicepresidente dell'associazione Ferrari ed Ecus Olao Artioli e l'assessore comunale alla cultura Marco Gulineni. Per noi come ho detto prima è una nuova, come devo dire, aggiunta ad un patrimonio di lapidi che sono in tutta la città e che la Ferrari ed Ecus ha sempre curato fin dalla sua fondazione. Quindi è una delle nostre attività insieme poi all'editoria, insieme alla conservazione di opere, al restauro di opere e alla pubblicazione di bollettini di vario tipo. Ne abbiamo fatto uno meraviglioso su Viaggio Rossetti che ha avuto molto successo eccetera. Quindi è un'attività culturale molteplice, cioè ci occupiamo di tantissime cose. Il significato è ampio perché oltre al significato storico c'è anche comunque un ulteriore omaggio al grande poeta, drammaturgo, scrittore Torquato Tasso. Ma oggi grazie alla Ferrari ed Ecus, ne approfitto per salutare l'architetto Michele Pastore e grazie anche all'amministrazione, il passante qualsiasi potrà, grazie alla fissione di questa tarca, sapere che comunque in un qualche modo Torquato Tasso in realtà è vissuto in questo ambiente. Sappiamo che c'è stata una ricostruzione filologica da parte di Carlo Savonuzzi nella ricostruzione, ma in quella ricostruzione filologica sono stati riproposti i portali, le finestre, elementi insomma originari della cella del Tasso. Ora il teatro, prima assoluta, giovedì 17 febbraio al Teatro Comunale Abbado di Ferrara di Kina Shemore, Esther Largina del Ghetto, spettacolo realizzato dal Teatro Nucleo in collaborazione con il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano della Shoah e presentato in anteprima assoluta al Teatro Comunale di Ferrara. La regia dello spettacolo che riprende alcuni momenti di una tragedia di Leone Modena è di Orassio Zertoc e Marco Luciano. Noi abbiamo sentito proprio Orassio Zertoc a cui abbiamo chiesto appunto di presentare lo spettacolo. Sentiamo. Sì, lo spettacolo viene presentato nell'ambito di questa grande mostra del Meis sul Ghetto ed è un prodotto del Ghetto. è nato, è stata scritta da Leone Modena appunto nel 600 nel Ghetto di Venezia ed è una rivisitazione della Megillah Esther, cioè del libro di Esther che tutti potete trovare nella Bibbia anche in quella cristiana. Insomma è una storia particolare che dà origine alla festa ebraica del Purim in cui il popolo ebraico celebra la salvezza della loro stirpe da un tentativo di annichilimento per mano di Amman, il primo ministro di Assuero e così via. Adesso io non faccio come si dice, non vi racconto tutto perché l'intento di questa trasmissione è quello di invitarvi a teatro. Venite a teatro, voi noi che usciamo adesso di questa lunga repressione ecco che ci ha impedito il contatto con gli spettatori, ve lo posso dire, lo spettacolo è brillante al contrario di quanto potrebbe suonare, no? Una tragedia, Esther, è una tragedia ricca. Leone Modena tra l'altro è un personaggio molto particolare di origine ferrarese che poi crebbe e si sviluppò nel Ghetto di Venezia però molto attivo all'interno dei tentativi di spiegare, di combattere l'ignoranza che per Leone Modena era il motivo di moltissimo, di molto del razzismo, dell'accanimento contro gli ebrei. Ora la Spalla tra poco in campo a Monza per sovvertire il pronostico, questo l'intento con cui appunto la squadra di Venturato si accinge ad affrontare la trasferta sul campo della corazzata di Stroppa che in casa è imbattuta e ha vinto otto volte. Allora sentiamo l'allenatore della Spalla Venturato durante la conferenza stampa. Pronostici tutti, diciamo, sfavorevoli alla Spalla. Per lei sarebbe doppiamente bello andare contro l'opinione pubblica anche per festeggiare le sue 200 panchine, un motivo in più? Beh, indipendentemente sicuramente il Monza è una squadra che in modo molto esplicito e chiaro ha dichiarato qual è il suo obiettivo di questo campionato, che è quello di cercare di andare in Serie A. Quindi giochiamo contro una squadra che è stata costruita con presupposti e con una rosa e con un tecnico che sicuramente hanno grandi capacità, per cui sarà sicuramente una di quelle partite molto importanti e altrettanto tra le più difficili sicuramente di questo campionato. Io credo che noi dobbiamo avere sempre la capacità di mantenere identità e il nostro modo di interpretare il calcio e cercare di farlo in campo indipendentemente dall'avversario. Quindi grande rispetto per il Monza, sicuramente sarà una partita nella quale partono da favoriti e noi cerchiamo di giocarcela. Mister, emergenza in difesa? Sì, c'è questo problema. Meccariello è squalificato e ha preso la quinta munizione. Vicari ha avuto questo piccolo problema, però quando in modo molto sereno, in diverse occasioni ho detto che la rosa della spalla è una rosa che ha giocatori bravi, credo che anche nei difensori, anche nei giocatori giovani che abbiamo, sicuramente sono giocatori molto bravi. Quindi chiaramente Vicari è un giocatore che ci dà impatto, esperienza, che ci dà qualità, però in questo momento ha questo problema e quindi credo di avere grande fiducia e soprattutto grande consapevolezza dei mezzi che hanno i due ragazzi giovani, di Peda e Heidrich, per cui uno dei due giocherà e non ci saranno, credo... Andiamo a giocarci la partita con la giusta determinazione e con la giusta consapevolezza delle capacità che abbiamo. Allora, la spalla è tra pochi minuti in campo, naturalmente la linea va a match, condotto da Nicola Franceschini e a tutti i suoi ospiti per commentare appunto Monza Spal. Chiudiamo qua il nostro TV giornale, grazie di essere stati con noi, arrivederci. a tutti i suoi ospiti.